Da una parte bisogna stare tranquilli che non verrà messo in discussione quello che è il patrimonio dottrinale e tradizionale della Chiesa, però certamente dal sinodo viene un'istanza molto interessante che è quella di un'attenzione più cordiale nei confronti delle situazioni difficili sia sul fronte matrimoniale, sia per quanto riguarda le persone omosessuali, eccetera. Quindi bisogna che il sinodo trovi queste strade, trovi questi orientamenti, queste indicazioni di carattere pastorale affinché la Chiesa faccia sentire il calore del cuore di nostro Signore Gesù Cristo anche in queste situazioni difficili.